Ciao a tutti, un uomo ti ignora, perché lo fa? In questo video voglio spiegarti perché un uomo ti ignora e come venire fuori da questa situazione, come uscirne. Allora, intanto, per prima cosa ti ricordo di iscriverti al canale, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco, ma soprattutto iscriviti a tutti i miei canali, che rappresentano la comunità numero uno in Italia per seduzione, amore, benessere e crescita personale. Quindi i canali sono, questo qua ovviamente, Felicità Benessere con Massimo Tremasco, ma anche il mio canale principale, Massimo Tremasco, e poi Crescita Personale con Massimo Tremasco e Amore Autostima. E adesso ti ricordo che su questo canale, Felicità Benessere con Massimo Tremasco, ti puoi abbonare scegliendo tra abbonamenti base per dare delle risposte, per partecipare alle live, e l'abbonamento soprattutto seminari online. Perché ecco qua, ti ricordo che, annunzio Vobbis Gaudium Magnum, venerdì 18 dicembre, dalle ore 20.30 alle 23, su questo canale, Felicità Benessere, ci sarà il mio seminario online. Fai volare la tua autostima, per partecipare devi semplicemente abbonarti al canale, scegliendo l'abbonamento seminario online. Il seminario poi durerà un mese, quindi avrai tutto il tempo di vederlo, stravederlo e rivederlo. Quindi venerdì 18 dicembre, dalle ore 20.30 alle 23, su questo canale, Felicità Benessere, seminari online, fai volare la tua autostima. E adesso, e adesso veniamo al tema, un uomo ti ignora. Perché lo fa? Perché lo fa? Allora, intanto se un uomo ti ignora, devi prendere atto del fatto che non è coinvolto del tutto con te. Ma non è detto che però non ci sia questo coinvolgimento, potrebbe anche agire per strategia. Ma di fatto, se un uomo ti ignora, ti sta lanciando una sfida. Ti sta lanciando una sfida, ti sta dicendo io sono più forte di te. Ed è probabile che sia così, perché a meno che tu non abbia fatto la patella sullo scoglio, che non sia stata una stalker, che non abbia rotto i maroni dal mattino alla sera, un uomo non ha, diciamo, non ha interesse a ignorarti, no? È ovvio che se invece si fa sentire ogni tanto, ogni tanto si manifesta, ogni tanto no, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, è perché evidentemente tu vieni considerato come una ruota di scorta, vieni considerato come una con la quale ogni tanto andare, ma senza poi tutto questo, diciamo, clamore, no? Quindi non è che ha tutto questo interesse poi per avere una relazione profonda, una relazione come tu vorresti con te. Ecco, questo è il concetto fondamentale, no? Quindi tu devi tenere presente questo fatto, devi tenere presente questa situazione. E allora che cosa succede? Beh, succede un fatto importante, che se tu vuoi invertire la situazione, devi fare alcune cose, intanto devi toglierlo da quel cavolo di piedistallo in cui l'hai messo. Il che vuol dire che non devi inseguirlo, lui ti ignora bene, bene, premetti distanza emotiva, perché noi a livello mentale trasferiamo delle energie, noi siamo interconnessi con tutto quello che ci circonda, siamo, questo lo dice anche addirittura la Relatività Generale di Einstein, siamo, diciamo, interconnessi gravitazionalmente, se vogliamo, con tutto quello che ci circonda, abbiamo una connessione profonda. E allora, quello che noi facciamo, soprattutto in alcune interconnessioni particolari, in alcune situazioni di entanglement particolare, noi dobbiamo renderci conto che questi fatti che noi mettiamo in essere, poniamo in essere, quando mettiamo una distanza emotiva, assolutamente noi otteniamo dei risultati importanti, dei risultati molto importanti. E come facciamo a mettere una distanza emotiva? Beh, mettere una distanza emotiva vuol dire che intanto vedi assolutamente altri uomini, creati dei network, diciamo, sociali, no? Quindi interagisci con altri, non stare lì a, diciamo, a pensare, uuuu, uuuu, ma perché non si fa sentire, uuuu, mi ignora, fare la sirena. Fare la sirena, fare l'ambulanza, non serve assolutamente a niente, non devi fare l'ambulanza, devi, e devi evitare di vivere di fantasie, devi evitare di vivere. Mi ignora? Bene, io metto le distanze emotive, prendo le distanze, vedo altre persone, ma se una donna mi ignora, ma che me ne fotte? Ci sono altri 500.000 disposte alle quali posso interagire, no? Per fare un esempio, no? Quindi anche tu, che sei donna, che sei malgasciona, ti muomo, ti ignora, interagisci con altri, datti altre emozioni, ma altre emozioni inizia a mettere dentro di te emozioni positive, quindi inizia, ad esempio, a coltivare la tua autostima, perché se tu non coltivi la tua autostima, beh, veramente, se ti consideri sfigata, ti consideri sfortunata, se invece fai crescere dentro di te, forte la tua autostima, cioè la percezione che sei una persona che vale, la percezione che sei una persona importante, la percezione che sei la donna giusta, allora otterrai dei risultati fantastici, vuoi far crescere l'autostima? Non sai come fare? Bene, partecipo al mio seminario online, che sarà venerdì, 18 dicembre, online, su questo canale, dagli ore 20 e 30 alle 23, poi durerà anche un mese, però venerdì sarà in diretta, quindi potrai farmi domande, eccetera, e su questo canale il titolo è Fai volare la tua autostima, quindi come riappropriarti della tua felicità, come riappropriarti della tua autostima, per partecipare basta che ti abboni al canale, è molto semplice, abbonati al canale e scegli come abbonamento seminario online, abbonarsi è facile, basta andare nella home page e scegli, tastina abbonati se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer, e poi selezioni seminari online, e allora, e allora, quindi una volta che tu hai recuperato l'autostima, beh hai già fatto il 90% delle cose, perché se tu ami te stessa, intanto la tua parte emotiva inizia a capirlo, la tua parte emotiva inizia a capirlo e per legge d'attrazione attrarrà persone che ti amano, perché noi siamo, ciò che abbiamo dentro sperimentiamo fuori, cioè sembrerà strano, ma se tu ami te stessa attrarrai persone che ti amano, proprio per, energeticamente, cioè non è un qualcosa di mistico, un qualcosa di esoterico, no, è proprio un qualcosa di fisico, è la nuova fisica e sono le frontiere della nuova fisica, quindi questo è quello che devi fare, e lui, lascialo nel suo brodo, prima o poi arriverà a cercarti, allora quando lui ti cercherà, allora tu avrai potere contrattuale, potere negoziale e potrai iniziare a mettere dei vincoli, vatti a vedere il video sui vincoli che ho fatto, però devi evitare, diciamo, assolutamente di inseguirlo, assolutamente di metterlo sul piedistallo e iniziare a prendere le distanze emotive, creare il distacco dal risultato, questo è quello che ti consentirà di farli innamorare. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e mi raccomando iscriviti alla mia comunità, questa è la comunità numero uno in Italia per amore, seduzione, crescita personale, benessere, sono i miei quattro canali Massimo Terramasco, questo canale Felicità e Benessere con Massimo Terramasco, il mio canale Crescita Personale con Massimo Terramasco e Amore Autostima con Massimo Terramasco, quindi questi quattro canali costituiscono in un nucleo fondante della comunità, poi le persone si conoscono, interagiscono tra loro, insomma, è una bella cosa, insomma, quindi vatti a iscrivere ai miei quattro canali e farei parte della comunità numero uno in Italia per amore, seduzione, crescita personale, felicità e benessere. Ciao a tutti! Ciao a tutti!